come puoi vedere la mia voce si sente doppia perché c'è un problema riguardo a OBS perché ci sono doppi microfoni che riprendono la tua voce sul programma quindi in questo caso se hai settato OBS e se ti dà fastidio questa doppia voce che sto usando un attimo che la tolgo, eccola qua, l'ho tolta e si sente solamente il microfono principale che sto usando su OBS studio quindi in questo caso quando vai a settare così il microfono su OBS studio o lo crei qui sul più oppure lo fai direttamente su impostazioni e vai su audio ed eccolo qua quindi in questo caso dispositivi audio globali in questo caso ti consiglio sempre di selezionarlo qua perché così facendo potrai mettere i filtri quindi anche la riduzione del rumore quindi togli, metti tutto disattivato qua per il microfono e fai applica e fai ok e in questo caso terrai solamente il microfono su OBS studio, questo qua cattura l'audio in entrata che sarebbe questo qua e io con i filtri posso anche mettere la riduzione del rumore quindi si sente solamente la mia voce, questa è la soglia di chiusura a meno 32,00 decibel qui è meno 26, tempo di attivazione 25.000 secondi, 200.000 secondi, 150.000 secondi riduzione del rumore RN noise per aggiungere i filtri vai su più e qui c'è scritto riduzione del rumore e sensibilità di ingresso quindi se questo vedete è stato utilissimo su come togliere la doppia voce dei doppi microfoni che stai usando su OBS studio iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao